Mara veniera abbronzata, rilassata e felice di trascorrere le sue giornate insieme al marito, Nicola Carraro, al nipote e a Santo Domingo, quello che ormai da anni è il loro buon ritiro. La conduttrice ogni estate raggiunge il marito che li trascorre quasi tutta l'estate, e solo, e dove ritrova la figlia. Era stato proprio Carraro a fare il video a Mara e a Claudio, il nipote, mentre uscivano dall'aeroporto poco dopo essere atterrati. E ancora Carraro è l'artefice del filmato che mostra Mara Venieri in versione vacanziera. In testa una fascia colorata, costume e a coprire un pareo. Nicola scherza e riprendendola mentre si avvicina sempre di più a lui esclama, ma è lei o non è lei? A me sembra una brasileira. E no è lei. La zia. Sei bellissima amore mio. Una dedica d'amore che ha fatto nascere un sorriso compiaciuto sul volto di Venier. Nicola e Mara a Santo Domingo hanno una villa bellissima con ampi saloni e una meravigliosa piscina. Le pareti sono completamente bianche e danno l'idea di un posto confortevole e perfetto per rilassarsi. Interrompono il bianco candido le grandi vetrate che danno sul giardino antistante e l'arredamento che gioca anche sulle sfumature del legno e da quadri e cuscini che riprendono la coloratissima tradizione locale rossa e arancione. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.